Siamo a Sanremo, Radio Bruno Francesca Fagnani l'ha chiamato SETU, ma credo che la pronuncia giusta sia SETU SETU, 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 però è scusata Ma ACCA è aspirata? No, è proprio SETU SETU Come se l'ACCA non ci fosse SETU SETU, se tu fossi me Siamo contentissimi di averti qua con noi a Radio Bruno Grazie mille, è un onore per me Com'è andata? Bene, bene, è andata bene È andata la prima sera, che è sempre quella più complessa Sia dal punto di vista emotivo che altri, tanti altri punti di vista Però, bene, sono contento E ora è la seconda, poi la terza, poi la quarta Com'è quel momento in cui chiamano il tuo nome e devi scendere? Cioè, tipo, riesci a respirare o... Ti si secca la bocca Ti passa davanti tutta la tua vita E dici, sto andando a morire No E però, poi, diciamo che spengo Io ho spento il cervello, sono andato lì E non mi ricordo più niente Ho guardato il mio fratello Prima di salire Non scopri bene di salire Prima di iniziare a suonare E da lì, vuoto Vuoto Zero Guarda, io ero lì ieri sera Ti posso dire che hai spaccato Grazie Hai fatto un'esibizione assolutamente non a cervello spento Un'esibizione proprio grinto Grazie Sei un ragazzo giovane che sicuramente è alle prime esibizioni Un palco così importante Forse non l'avevi mai fatto No, 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 ma ci mancherebbe altro Te lo sei mangiato Grazie Cioè, per me conta davvero tanto sentirlo, veramente A me è piaciuto moltissimo il tuo pezzo Ma raccontaci come l'hai scritto Da dove nasce Vogliono sapere qualcosa in più di te Guarda, è un pezzo che è nato un anno e mezzo fa Quindi non è pensato per il festival di Sanremo Cioè, l'avevo scritto un anno e mezzo fa In cameretta con mio fratello Classica situazione Nostra E... Molto semplicemente C'è un pezzo, guarda Beh, abbastanza energico, ecco Mettiamola così Però Ha dentro anche un po' Di... Cioè, è un po' riflessivo anche Perché è autobiografico Parla Di... Sai, quando ti senti un po' una pecora nera, no? Io e mio fratello abbiamo Scelto una strada non predefinita Abbastanza con la della musica Con una strada un po' Eh... Che ci ha dato tanti sbatti Come si dice Però Diciamo che Anche se spesso ci siamo sentiti anche un po' non capiti Insieme Ci siamo sempre un po' fatti forza, ecco Quindi parla sia di errori, sbagli Incomprensioni Però anche di rivalsa Quindi c'è... Sì Il messaggio è quello di crederci E di buttarsi nelle cose In cui si crede Anche se la strada è difficile Brava, il coraggio di essere Insomma anche libero Di fare i tuoi sbagli Ecco, questo vorrei dire Beh, un messaggio importante Le sonorità comunque sono cariche Cioè... Sì, sì, sì È una canzone che ti puoi mettere nelle puffiette a tutto volume In palestra quando vuoi Sì, sì, sì Sotto la doccia Sotto la doccia Sì, sì, sì Sì, sì Invece venerdì sera Ci aspettiamo Baustel Lo hai letto bene? Baustel Charlie fa surf dei Baustel come cover E come duetto Bunker 44 Che i miei fratellini oggi arrivano a Sanremo Quindi... Come mai questa scelta? Perché... Allora, diciamo che ho fatto più una scelta artistica Perché loro non sono un nome conosciutissimo al pubblico televisivo Però fanno dei bei numeri, no? Tra ascoltatori comunque Cioè, per dire, il mio target Così Però, ecco, volevo fare questa... La mia idea era quella di fare... Omaggiare un pezzo Come quello dei Baustel Che fa 15 anni quest'anno Sì, è un grandissimo pezzo Charlie fa surf incredibile Però con artisti della nuova generazione pop E quindi, capito Fare un po' questa cosa nuova Dei nuovi Che fa rienterpretare un pezzo Però comunque è un pezzo anche attuale, capito? Secondo me Perché tipo ha un testo forte D'impatto non scontato per il Festival di Sanremo Sono contento Vediamo cosa mi c'è È importante che continui a farci ballare Sì, sì, sì Mai fermare le danze Mai fermare le danze Cosa ne pensi della classifica? Ti ha buttato giù? Ti ha dato uno sprone in più? Cioè Non mi ha Cioè Non mi ha turbato più di tanto Perché diciamo che Non era niente che Cioè io sono uno molto pessimista Sai Però non era niente che non mi aspettavo Io Quindi non mi ha sconvolto Che dicevo Ah, pensavo di essere sopra Giorgia No, però A parte quello Penso che sia rispettabile Il parè, no? Della stampa che mi ha messo lì Cioè quindi Amen Io sono qua A cercare di portare Capito la mia musica Guarda, vedrai Yes Adesso un pronostico Vai vai Che sali un bel po' Dicili Perché ieri sera abbiamo proprio pensato Per me era una delle canzoni più belle Più cariche Più grintose Quindi Secondo me poi quando il pubblico avrà il 50% di peso Ci sarà Una bella botta Dai ma se ci sarà Grazie anzitutto E se non ci sarà Ci saranno tante altre cose No, no No, ma assolutamente Cioè io sono veramente Super tranquillo Anzi Gli ultimi Saranno I primi No, scherzo Basta Ormai lo vedete Imparare in 40.000 altre cose Non fa più ridere Basta Beh, non solo lui Ma guarda No, no Ma anche al vasco Zucchero Cioè Quindi non conta niente L'importante è essere arrivato su questo palco E stai facendo benissimo Cosa ti aspetti di imparare da questa esperienza? Mi ha già insegnato tanto Ti dico la verità Perché vengo dai giovani Quindi Da ottobre Quindi mi porto avanti St'altra fila Sanremo Sanremo Quindi mi ha già insegnato tanto Io diciamo che avevo delle Sai anche mancanze Per come affrontavi Cioè Per come affrontavi la vita Da artista No Cioè Mi ha insegnato essere rigoroso Andare Provare Blablabla E Cercare di migliorare sempre Confrontarti anche con i tuoi difetti Blablabla Che questo palco Mette in luce Ha capito Quindi Mi ha insegnato tanto Quindi mi porto a casa Già qualcosa Poi vabbè Poi quando finirà Sicuramente Spero un bel ricordo Capito cosa voglio dire Cioè Assolutamente Grazie mille di essere stato con noi Ti auguriamo Tanta tanta fortuna Grazie mille Dei complimenti E dell'ospitalità ragazzi Radio Bruno In diretta dal Festival di Sanremo In diretta dal Festival di Sanremo In diretta dal Festival di Sanremo In diretta dal Festival di Sanremo